Benvenuti in questo nuovo video su Voto la spesa ed iniziamo subito dai nostri amici animali con siamo andati in un negozio appunto per quest'ultimi e abbiamo mia madre ha speso anzi 18 euro e 90 oggi ho la faccio compito ma perché? è un bel nome anche buongiorno intanto a tutti e infatti manco aveva salutato buon pomeriggio e io mi presento da sole e saluto da sole faccio tutto da sole il negozio è un bel negozio Allora iniziamo da questo che ce l'ha consigliato il nostro veterinario praticamente ed è Purina la marca Purina e questo è per gli adulti sterilizzati ovviamente mi metto di qua che mi viene così ed è per un'ottima digestione per i reni e questo l'ha pagato mia madre 3,99 euro 4 euro e ce n'è dentro quanti grammi? 400 grammi ed in più questo è al pollo poi sempre nella stessa linea la variante da 1,5 kg mamma questo è è già è tanto ottimo il prezzo è caro però è purino purino e purino non si può fare a meno sinceramente 12,90 euro sempre per gatti sterilizzati al gusto di tacchino esatto poi per pulire il pelo degli animali già te l'avevo consigliato in un altro video su quanto la spesa queste salviette per appunto gli animali a 2 euro e queste e queste piacciono a Panti e lui non si lamenta quindi te le consigliamo come salviette poi passiamo a MD e poi acqua e sapone quindi andiamo per step by step per gradi come dice mia madre da MD mia madre ha speso 37 euro e 46 centesimi naturalmente danno il tempo ecco perché questo è importante il mio tempo lo voglio io ecco mozzarella allora la mozzarella te lo dico subito 4 mozzarella all'interno 325 grammi 2,09 centesimi la mia madre ti dice tutto 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 da l'O alla Z sono ottime si comunque da MD c'erano delle cose carinissime per San Valentino vero ma? si le rose c'erano c'era un contenitore di vetro con la rosa all'interno vero? si bello e anche delle rose singole vere bello 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 non l'abbiamo presa vabbè comunque carote 0,89 centesimi besciamello 0,89 centesimi ah mamma non diciamo mai di scriversi tu lo devi dire certo no ma dillo pure tu perché se no iscrivetevi è importante ci fate piacere compagnia compagnia certo eh scusa certo attivando la campanellina tutte mi raccomando eh per questo dillo tu dico non lo dico quasi mai però mhm nei video spesa però ma ci fa piacere ci fa piacere 0,79 centesimi stracchino senza lattosio viva meglio quanto ma 0,79 centesimi ah mamma ho detto tutto io tutto insieme l'ho detto già oggi riesco a dire le cose velocemente eh e certo poi il parmigiano ecco e già qua ci fermiamo eh ecco ero contenta di poter dire le cose come stavano eh e adesso però l'ho trovato parlando con te eh ce l'ho fatta eh quattro euro comunque mamma ti salutano sempre tutti grazie e ti fanno grazie in anticipo e ti fanno sempre i complimenti grazie anche a voi no perché loro mi scrivono i commenti li leggo io però giustamente 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 e appunto giustamente io i video li faccio con mia madre mica li faccio sola esatto diglielo ecco poi le lasagne benissimo 0,89 centesimi e condividi pure eh è importante condividi su tutti i tuoi social così il canale cresce e viene conosciuto anche da altre persone io nel mentre sto prendendo le banane da sacchetto ce la posso fare e la banane beh 1,97 centesimi sommature queste sì queste no scatolette bocconcini gatto manzo manzo con vitamina D3 ed E 0,39 centesimi queste però non sono per quanti ovviamente sicuramente no dico io lo dico sempre perché lui è sterilizzato quante di queste hai detto? queste di quattro ok questo formaggio mass jammer mass jammer che c'è sempre nei video md di mia madre sì perché mi piace molto e costa poco 1,59 centesimi cipolle bianche 1,29 centesimi due sacchetti la cartigenica ce ne sono otto rotoli sì hai perfettamente ragione la trovi? e questo è l'unico elemento proprio che mi manca ecco qua comunque il calore guardo io un'ottima nuova 0,5 scusami 3,29 centesimi no no niente ed infine la marmellata di albicocche a 1,25 centesimi adesso passiamo ad acqua e sapone solo acqua e sapone best oggi non ne sono capire e 33,44 centesimi questo è lo scontrino di mia madre poi dopo ti farò vedere quello che ho preso io due cosina comunque prego ma passami quello che c'è da passare mia madre fa doppio lavoro oltre a leggere passa quindi doppio partiamo dal bucato a mano ammorbidente per lavare a mano e la lavanda e la lavanda questo qua è ottimo anche questo due e questo allora io spero che mi basti la memoria del telefono perché non ho il computer e non mi posso passare i file se succede che non mi basta la memoria sono rovinata va bene 1,50 euro quindi velocizziamoci questo l'ho preso pure io in un'altra fragranza questo però è 5 e5 sarebbe la marca quella che piace a mia madre aroma lavanda e mughetto io già l'avevo visto tu forse non l'avevi notato non te ne ero resa conto detergente pavimenti con aromaterapia questo ha un effetto rilassante 1,30 euro candeggina profumata al limone io non riesco a utilizzarla la candeggina proprio non ce la faccio per il pavimento 0,65 centesimi si disinfetto esatto il mio prodotto famoso quello avevi nominato prima si i 5 file già lo conosci se non lo conosci già te ne abbiamo parlato in mille salse super file si negli altri video su della spesa 2,30 euro questo è anche molto importante si l'isoform detersivo e igienizzante beh detersivo e igienizzante colori brillanti 2,20 euro però la fin fine per 1,17 litri ci sta e questo è proprio per il bucato si finish 3,99 euro questo sarebbe quello per la vostra figlia colluttorio aspetta mamma fammi arrivare all'inquadratura se no poi non lo vedo sai perché io te lo dico perché per il discorso appunto telefono magari hai dei problemi no no dai speriamo di no benefit total protection colluttorio delicato questo è senza alcol protezione delicata 1,40 euro due ne abbiamo presi due tipi questo invece è rinfrescante intensa freschezza lo shampoo all'equilibrio all'aloe 3,40 euro questo è sempre caro non passerà mai secondo me purtroppo sempre posizionata sempre sarà il cotton fioc il cotton fioc cotton sound è la marca ma sì 90 centesimi due due le ricariche dello spazzolino elettrico ora al B che usiamo tutti in famiglia che purtroppo costano tanto questo è 9 euro e qualcosa 9 euro e 30 infatti lo so le dovrei prendere pure io però costano tantissimo purtroppo eh poi io ho provato quello al carbone l'hai provato pure tu come ti ci sei trovata abbastanza bene io me ci sono trovata bene sì però costa anche quello molto questo è max white normale senza carbone ed è colgate sai che non riesco a trovarlo? vedi che poi ti faccio perdere tempo guardalo tu ma non lo vedo colgate 2 euro e 40 perfetto per quanto riguarda invece me da acqua e sapone ho speso 14 euro e 30 c'è sempre il 14 nelle mie giornate perché il mio numero preferito è perché sono nata il giorno 14 tuo e il tuo marito esatto Dixon queste sono nuove sì mi hanno incuriosito perché hanno una tecnologia che neutralizza gli odori e per il lavoro che fa mio marito sono l'ideale 4 in 1 antiodore sono queste qua una novità e all'interno quanto ce ne sono? 25 benissimo 6 euro e 10 e è anche buono buono se tu dici poi vediamo 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 l'antico alcare schiuma extra fresco floral questo sicuramente l'hai trovato sì e poi questa invece alla menta questo non l'ho mai provato ho provato questo però il profumo fresco a me piace quindi interessanti 1 euro e 30 poi mi serviva il tonico perché l'ho terminato e ho preso questo della Garnier che già l'ho usato non è male ha il 96% di ingredienti di origine naturale ed è fresh all'uva 3 euro e 10 questo è della stessa linea di questo qua super 5 di questo quello che ti dicevo poco anzi solo che questo che ho preso io è al Ribes e Gelsomino ed è energizzante mentre questo è rilassante come ho già letto si ha varie profumazioni le proviamo ce n'è un'altra mi pare ho altre due si 1 euro e 30 come io lavo i pavimenti però non sento mai profume che è una cosa che io odio odio cioè se lavo a terra si deve sentire non so te ma se uno utilizza un prodotto profumato e di solito non si sente mai non si sento ma perchè non si sentono queste cose io non lo so speriamo questo speriamo poi le salviette struccanti fria 1 euro e 20 queste sono per pelli sensibili da acqua e sapone abbiamo terminato adesso tocca Sisa per un prezzo totale di 76 euro un botto voilà era da un po' che non andavo a fare la spesa si nota? si si nota ma mia madre quando non si purtroppo sono stata raffreddata quindi non si è potuta andare da nessuna parte milk benissimo difese naturali 1 euro e 99 mi sembra di essere tipo alle televendite male presente poi mulino bianco cornetti classici quanti? intanto fammi vedere se riesco a provare la lista diciamo che l'hai fatta vedere è abbastanza lunga è abbastanza lunga no vabbè qua è comprensibile però diciamo che è comprensibile eh datemi alto che è così ecco 2 euro e 49 3 pacchi ok perfetto si questi sono carini si blue cake senza zucchero aggiunti del mulino bianco quanti all'interno stessa pochi 5 1 euro e 99 se li buttano senza olio di palma oh my god non lo sapevamo ormai lo tolgono dappertutto quasi dappertutto perfetto quindi leggete le etichette mi raccomando è importante adesso mentre cadono cose perché il tavolo è stracolmo parmalatte di mille questo è alta digeribilità si 1 euro e 69 centesimi domopac voilà no questo è l'incontrario sacchetti gelo 99 centesimi c'è la torre la torre tu devi proprio la torre di come è rummo queste sono le linguine brava hai fatto bene a dirmelo benissimo ce ne sono quattro pacchi a 0,99 centesimi quindi tutte di linguine giusto tutte le linguine perché mi piacciono moltissimo perché noi praticamente mangiamo le linguine amiamo tantissimo le linguine con l'olio e il peperoncino è buono ma dobbiamo fare la ricetta quale? ce ne sono tante ricette questa questa è semplicissima non ce lo vedete no non è vero eh lì ti sbagli lì ti sbagli eh le linguine la pasta aglio olio e il peperoncino è una di quelle più complicate che esistono al mondo perché con pochi ingredienti devi sapere saltare un piatto e devi renderlo cremoso attraverso la mantecatura dell'acqua di cottura quindi la faceva bene molto bene mio zio tanto bene mio zio mio zio lo faceva benissimo esatto però se volete la ricetta scrivetemelo nel commentino aglio olio e peperoncino fatta da mia madre perché la mia versione ovviamente magari è diversa tu direi ma come è possibile può essere poi fettucina emigliana all'uovo barilla queste sono nuove ma la confezione è nuova sì perché non l'avevo messo però costano poco 0,99 centesimi due pacchi i crackers salati della mulino bianco sempre voglio dare tu un'occhiata ogni tanto guardo io no perché è molto lunga la ricetta mi succede di non trovare qua il primo è di tutti perfetto i primi 0,99 centesimi poco stavo dicendo ogni tanto guardo il timer per vedere se è ancora a registro oppure no poi se non registra mi piglia un colpo poi atti 0,99 centesimi di tali per esempio perché è una cosa che si può rompere questa la beviamo ogni tanto io e tuo padre birra Heineken due confezioni esattamente brava a buon prezzo 1,95 centesimi polpa doria due confezioni a 1,45 centesimi riso scotti non il riso i biscotti senza lattosio 3 pacchi a 2,99 centesimi questi sono al cioccolato invece poi tu hai preso anche quelli classici allora questi tipo gocciole simil gocciole il sale grosso perché appunto momento di silenzio è un momento molto importante perché io sono sempre alla ricerca del prezzo giusto come era del prezzo perduto alla ricerca del prezzo 0,39 centesimi trovato zucchero classico come si chiama questo zucchero classico eritania lo devono scusare tutti quanti i miei momenti di silenzio io poi taglio se c'è da tagliare io taglio se c'è da tagliare eccolo qui 0,69 centesimi però io raramente allora in questi video svuota la spesa taglio pochissimo poco e niente veramente sono sincero perché anche i momenti di suspense i momenti qualiatici tutti sono belli come momenti secondo me si va a perdere il senso del video e della spontaneità che è quello di anche divertirti e intrattenerti oltre che dare le informazioni sui prodotti esatto alluminio no l'alluminio quello che fa quanto quanto frio sì però dai c'è scritto vabbè carta d'alluminio bene metri 8 benissimo frio 0,99 centesimi dico è giusto mamma faccio bene a non tagliare no vabbè rovini tutto la spontaneità del momento scusa che qua ce n'è spontaneità appunto calvè classica maionese grande quella sì quella formato gigante 500 ml un'altra marmellata ma non avevo più confettura non so se si notava si è notata confettura d'albicocca ecco e mi potessi dire la marca si so sembra eccola qua 1 euro e 20 3 pacchi ah sembriamo schewakker no 0,99 centesimi poi io ho concluso è finito eh sì abbiamo finito sì sì ci siamo riusciti abbiamo concluso ci siamo riusciti per questa volta ci siamo riusciti sì il caffè non l'ho detto la vazzadec classico dimmi scusa che sei la vazzadec rettifico quindi non abbiamo finito abbiamo quasi finito 2 euro e 99 centesimi adesso ho veramente finito sì speriamo di averti tenuto compagnia di averti divertito in qualche modo se è così ricordati di regalarmi un like e come ho detto prima di condividere e di iscriverti e noi ti salutiamo tante salute a tutti quanti mandi 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 ciao ciao